Estetisti e parrucchieri, i primi a chiudere e forse gli ultimi a riaprire. Ammesso che ci siano le condizioni. Il settore del benessere e servizi alle persone è allo stremo. Lo denuncia a Confartigenato che quantifica in 44 milioni di euro le perdite degli esercizi dall'inizio del lockdown. Anche la Sardegna paga quindi il suo tributo all'emergenza Covid con le sue 3.000 imprese e gli oltre 5.000 addetti. In tanti rischiano però di non riaprire. Tutto questo è ingiusto e non possiamo permetterlo, lo dichiara Antonio Mazzuzzi, presidente di Confartigenato Imprese Sardegna, che punta il dito contro l'abusivismo e le speculazioni imperanti e propone una riapertura breve dei saloni, rispettando la sicurezza di operatori e clienti. Molto dipenderà dalle richieste specifiche del governo che potrebbero comportare rimodulazione degli ambienti e relative spese. Diverse le misure previste da Confartigenato in ambito organizzativo, dalle sedute solo per appuntamento agli orari flessibili di apertura. Accorgimenti pure sull'aspetto igienico-sanitario, uno dei campi più sensibili. Utilizzo di mascherine, guanti, igienizzazione e disinfezione delle postazioni di lavoro e la presenza di dispenser disinfettanti per la clientela. Soluzioni rese più rigide per i centri estetici, dove Confartigenato suggerisce anche soprascarpe e camici monounso, insieme alla detersione dei lettini con prodotti ad hoc e l'arieggiamento della cabina dopo i trattamenti. Questo è il prontuario in attesa che il governo dia risposte certe sulla ripresa dei lavori del settore.